Nel 2016 sono sbarcati, anzi come dico sempre io, siamo andati, perché questo è il dato di fatto, siamo andati sulle coste libiche, utilizzando le navi della Marina Militare e della Guardia Costiera, a prendere presunti profughi, potenziali clandestini, perché i numeri dicono che solo una minima parte di quelli che avanzano la richiesta d'asilo di venire riconosciuto lo stato di rifugiato politico, oltre il 60% delle domande vengono respinte. Ma 10.000 morti non ti bastano? L'ho detto prima, noi dobbiamo evitare che ci siano quelle 10.000 morti impedendo che i barconi passi. Ma scusa, posso fermarci su questo punto? Nicola, scusa, possiamo fermarci su questo punto? No, scusa, e quindi concludo, e quindi i centri di identificazione e le domande d'asilo non devono essere fatti al di qua del Mediterraneo, e quindi gravando sul sindaco di Augusta... Nicola, scusa, una domanda, tu manderesti, scusa, posso sapere, posso sapere, tu ti sentiresti la responsabilità, se fossi un ministro della Repubblica Italiana, di mandare oggi mille uomini italiani delle forze armate in Libia a costituire dei campi di identificazione. Devi dirmi questo, se oggi tu ti sentiretti la responsabilità di mandare ragazze e ragazzi italiani in un territorio che non è ancora pacificato, nonostante, scusa, e tu lo sai bene, nonostante nonostante, nonostante, il problema è che se tu ti metti la mano sulla coscienza, come me la metto io, e vogliamo impedire che negli ultimi 15 anni sono 30.000 le persone che sono morte nel Mediterraneo, scusa, una domanda più facile, al di là del Mediterraneo, dove li metteresti i campi di identificazione, dimmi in diritta, dove, di quale paese, ma guarda che è quello di cui si sta discutendo, tu lo dovresti sapere, rispetto al Migration Compact che prevede non solo finanziamenti, e magari ci dice anche quanti finanziamenti, perché se sono i 60 miliardi di Euro con l'effetto moltiplicatore, così come il piano degli investimenti Juncker di 300 miliardi di Euro e non abbiamo visto una lira, ci sono quei paesi lì, la Libia, scusate, in Libia c'è un governo di unità nazionale che sta tentando di ricarsi il proprio territorio, assolutamente sì, in quei confini lì bisogna creare le condizioni tali per cui... Ma ora siamo d'accordo con la città, ora ne parliamo d'accordo!